allora periodo strano siamo tutti in quarantena in sostanza e però dobbiamo montare un video quindi adesso faccio ben 50 metri di passeggiata dall'altra parte del quartile dove c'è mia cugina che ha il wifi ci colleghiamo via skype con gli altri e facciamo il montaggio del video ciao e si vola verso il wifi si boh registriamo anche lo scarmo come te la stai vivendo sta roba ma in realtà neanche troppo male aveva un po giornate cioè ieri a fine giornate era veramente stralunato però bene agli altri ciao ciao spinghi a ire spoccato dello sfondo eh non so come si fa eh c'è tipo in basso adesso quindi la prima cosa che andrei a fare è sostituire queste parti qua eh con questo di narrazione esatto minchia c'è il programma che mi fa delirare però ve lo dico con me troia è valentissimo non riesco a capire perché perché c'è il tuo cugino c'è una fascia da culo eh tipo decontestualizzate cioè non riuscivo tanto a trovare il senso secondo me una me una secondo te più oltre lo ricordi è un attimo dall'inizio che mi sono un po' perso dove siamo arrivati così vediamo come funziona fino a qua non andrei magari a mangiare ancora a carnazzo ok ancora qua a me non comincio un cazzo perché? perché ciao 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 buona serata anche a te anche a me ah beh credo beh raga io ti direi che lavorare così è un casino inoltre noi oggi avremmo dovuto essere in studio e invece niente comunque speriamo di riuscire a rimanere tutti a casa e che si torni a lavorare come prima il più velocemente possibile la prossima settimana esce il video che abbiamo montato oggi sono Nicolás che registra la chitarra ciao